che si allontana dalle zone alte della classifica e festa grande invece per il Cagliari Melchiorri eroe a San Siro è il titolo più calzante della domenica? Ma guarda io ho fatto gol sì però penso sia stata una prestazione di tutta la squadra perfetta sotto ogni aspetto abbiamo affrontato la partita nel modo giusto e il risultato anche se è sofferto comunque l'abbiamo voluto Hai una storia alle spalle incredibile per certi versi sei ripartito dall'eccellenza con grande umiltà sei tornato in Serie A che sapore ha questa giornata per te? Il massimo della soddisfazione emozioni fantastiche da non crederci bellissimo dai Forse non ci credevate neanche voi visto che nelle prime tre trasferte avevate fatto zero punti lontano dalla Sardegna che cosa è cambiato? Può essere la molla che cambia il vostro campionato? Noi siamo venuti qua per ottenere almeno un risultato di certo non siamo venuti già battuti abbiamo preparato benissimo questa partita sapevamo dove e come far male è stata comunque una partita difficilissima l'Inter è una squadra fenomenale però abbiamo portato a casa il risultato questo è quello che conta sappiamo che Borriello non ha preso bene la sua esclusione gli offrirai una cena per addolcigli la delusione e la panchina di San Siro sicuramente però no, non è vero l'ha accettata col sorriso lo sa anche lui che in questa partita magari ci potevano essere più spazi in profondità cosa che mi piace molto a me lo sa facendo